Ciao a tutti, qui Roberto Colella. Per me Napoli da svelare, per restare in tema, è la Napoli che resiste. Una Napoli che purtroppo a volte non è sotto riflettori ma agisce nel sottosuolo. Ed è secondo me una delle parti più belle della nostra città. La Napoli fatta di grandissimi personaggi come Mirella, come Felice Pignataro. Una Napoli che si interessa degli ultimi, che forse meriterebbe di più. Ciao, noi siamo Fede e Marlen e Napoli da svelare. Per noi era chiuso nel titolo del nostro album, Terra di Madonna. E forse oggi, più che di luce, proprio quella fisica, ci sarebbe bisogno di una luce divina, di una luce sacra, di risvegliare per più motivi, diciamo, la nostra sacralità che insida nell'essere umano. E spesso ce la dimentichiamo. Pronti a saltare? Vivere in resistenza sotto chi deve ancora Ci sta? E ti voglio fare di ancora Su! Ehi! 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 Grazie!